I dati del Gores Marche evidenziano in giornata un aumento dei casi positivi a domicilio a 725 rispetto ai 592 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 85, mentre nel reparto di terapia non intensiva sono 337 rispetto ai 254 del precedente bollettino. Nelle Marche i casi di isolamento sono 2.642, mentre si registrano altri 9 decessi. Si tratta di 7 uomini e 2 donne. Gli uomini sono deceduti, uno a San Benedetto, 81 anni, Pesaro, 85 anni e Marche Nord, 92, 84 e 72 anni. A Torrette di Ancona, 80 anni e Urbino, 76 anni. Nella città ducale si sono spente anche 2 donne, 89 e 94 anni. Tutti avevano patologie pregresse. Al momento sono 36 i decessi nelle Marche. Nella provincia di Pesaro Urbino i casi positivi sono 496, i ricoverati in terapia intensiva nei presidi di Marche Nord sono 24, mentre i ricoverati in isolamento domiciliare sono 994 asintomatici e 229 coloro che presentano sintomi del virus. Sul territorio continuano i controlli sull'osservanza delle norme governative, aggiornate nella giornata di ieri a seguito delle disposizioni da ultimo introdotte dal decreto del 9 e 11 marzo. Sono stati eseguiti nel territorio provinciale 915 controlli ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni che vietano gli spostamenti, se non per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità e per motivi di salute. Dalla prefettura sono emerse sei segnalazioni all'autorità giudiziaria per ipotesi di reato prevista dall'articolo 650 del codice penale. 831 invece sono stati gli esercizi commerciali controllati.